Oggi riprenderemo il video del pong aggiungendo il punteggio e qualche altro piccolo miglioramento lasciamo da parte il pong per proseguire con altre particolarità del linguaggio vediamo subito come fare recuperiamo lo sketch del video 20 se vi ricordate faceva comparire la pallina e potevamo muovere il pad con il mouse andiamo ad aggiungere un punteggio a questo prototipo di gioco per aggiungere il punteggio ci servirà una variabile che chiamiamo punteggio la mettiamo uguale a 0 poi andremo a scrivere i punti sullo schermo quindi dobbiamo andare a creare un font con la variabile f il font di tipo pfont è un oggetto speciale di processing andiamo nel setup nel setup andremo a creare il font per creare il font va instanziato quindi faremo f uguale create font anche questo è un metodo proprietario di processing e qui dentro andiamo a mettere il tipo di font che è l'Arial che solitamente tutti i computer hanno il size è 16 e gli mettiamo true che è l'anti-aliasing in modo che i pixel sui bordi vengano sfumati e l'effetto è migliore per adottare il font quindi questo lo crea quindi crea un oggetto font per adottarlo quindi poterlo usare per scrivere sul video bisogna andare a attivarlo con text font quindi assegniamo il font all'oggetto testo diciamo f e possiamo andare con 36 a sovrascrivere il size che abbiamo dato inizialmente quindi questo qua è solo indicativo poi alla fine conta questo qua bene a questo punto andremo a disegnare il nostro font in giro da qualche parte mettiamo subito qui l'inizio del draw e metteremo punteggio quindi scriveremo il punteggio che attualmente è a 0 e lo mettiamo alle coordinate 150 vediamo se funziona quindi dove viene messo ok lo 0 è in questa posizione e va benissimo ora dobbiamo andare a inserire l'incremento del punteggio adesso facciamo una cosa veramente semplice andremo a incrementare il punteggio ogni volta che viene toccato il pad subito dopo il gruppo di if che va a verificare il rimbalzo della palla sul pad andiamo ad aggiungere il punteggio più più in questo modo ogni volta che la palla tocca il pad il numero incrementerà e automaticamente sarà aggiornato sullo schermo proviamo a eseguirlo per vedere se effettivamente il comportamento è questo vedete che dopo essere partito la palla rimbalza attendiamo che raggiunga il pad ok il comportamento è quello corretto per creare un pong vero e proprio bisogna fare qualche altra modifica eventualmente le faremo più avanti così che nelle prossime lezioni potremo proseguire con qualche altro comando fondamentale e operatore di java il video di oggi era molto semplice abbiamo concluso la versione primordiale di questo videogioco proseguiremo nel prossimo video con il ciclo while per approfondire la conoscenza del linguaggio processing e quindi di java spero che sia tutto chiaro vi ringrazio per la vostra pazienza e ci vediamo domani ciao